Ringrazio tutti per questo evento, molto importante per il centro agroalimentare e importante soprattutto per il nostro territorio. Viene valorizzata tutta quella che è la filiera ittica e soprattutto tutti gli attori di questa filiera. È molto importante per noi avere la regione presente, avere il comune di San Benedetto presente, all'onorevole e a tutte le autorità perché dimostra l'interesse su questa progettualità. Ad oggi siamo rientrati in un progetto importante grazie a Talmercati, a livello addirittura ministeriale. Siamo felici di progettare delle nuove prospettive soprattutto per il territorio. Prospettive future saranno appunto di creare progetti non solo sul litico ma anche su altri settori che possano essere congiunti con il Recovery Fund fondamentalmente e quindi andare a farsi a captare tutte quelle che possano essere le risorse utili per noi. Non dimentichiamo nessun attore, ricordiamoci che il Centro Agroalimentare è costituito da 80 aziende e quindi di creare sinergia è la cosa più importante per noi in questo periodo particolare. Appunto per proiettare il Centro Agroalimentare per il futuro. Assolutamente sì, dargli una nuova veste. Un ritorno al futuro. Grazie.